Mi dimetto anch'io pacatamente, serenamente. La Sardegna Floris ha scelto Capellacci e il merito, come dice la Gelmini, è del gladiatore della politica italiana Silvio Berlusconi. Che bella immagine che è questa, il gladiatore Silvio Berlusconi. Io credo che sia comunque in discussione un disegno che è quello di Veltroni, che prima ha portato alla vittoria di Berlusconi, alla presenza in Parlamento di Di Pietro, che adesso pare non vada più d'accordo con Veltroni, al fatto che la sinistra non sia in Parlamento, poi a escludere la CGL dai partiti sociali e oggi si vorrebbe anche tagliare fuori la sinistra anche dal Parlamento europeo. Il risultato del Partito Democratico è un risultato particolarmente negativo e bisogna guardare le ragioni profonde per le quali tanti non sono andati a votare, le ragioni di malessere sociale e anche di critica nei confronti di un certo modo di interpretare il governo della cosa pubblica.